Liori ritorna al centro dello studio, ascolteremo una sua bella canzone, è con noi Tony Colombo. Tony, che si fa il sogno? Diamo il microfono. Tieni, tieni, eccolo qua. No, io stasera, siccome siamo in promozione con Mary Marino, abbiamo fatto un brano insieme con questa bambina prodigio, siamo contenti di avergli dato questa grande mano, nel senso che abbiamo dedicato i nostri giorni e il nostro tempo per fare una bellissima canzone che si chiama Si Disbatto Core, sempre testa in musica da Tony Colombo e Luca Barbato, arrangiate da me, alla Dea Sound, ovviamente allo studio nostro, e stasera ve la voglio far sentire, ho piacere, voglio dire, di cantarla qui, soprattutto anche perché penso che dalla prossima settimana inizieranno anche le mie dirette qua, perciò siamo contenti, voglio ringraziare tutta la famiglia di Italia Mia. La canzone Si Disbatto Core e ve la faccio sentire subito. Tony Colombo! Sette giorni si sente, penso a lui, un bel tempo alla scuola solo per lui, E' arrivato il momento del mio grande amore Ieri sera ha pagato il mio primo caffè, ho fumato e la tosse era contro di me L'emozione saliva e il rossetto sbiadino mentre lui mi baciava ancora E' arrivato il mio grande amore 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 Grazie Grazie Vi invito tutte e due Siete i miei ospiti Grazie Ciao a tutti Ciao Saluti anche a Stolino De Maria Grazie 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 Grazie